Il caseificio di Villa Curte è nato nel lontano 1922, quindi ha ben maturato 102 anni. Non abbiamo ancora festeggiato questo importante anniversario perché siamo in attesa, nella primavera del 2025, di fare una bella festa dove inaugureremo anche il nuovo magazzino che è di recente costruzione in fase di completamento. Il nostro caseificio raccoglie il latte di 26 soci, i quali sono dislocati tutti in prossimità più o meno dei due centri di lavorazione principale. Il primo è questo appunto di Villa Curta che è alle porte di Reggio Emilia, mentre il secondo è in zona collinare a Casa del Grande. All'anno produciamo all'incirca 37-38 mila forme di parmigiano reggiano, anzi che diventeranno parmigiano reggiano al compimento del dodicesimo mese e trasformando appunto circa 200 mila quintali di latte. Come dicevo giustamente prima, abbiamo fatto negli ultimi anni degli importanti investimenti, soprattutto rivolti ad implementare tutta quella che è la tecnologia e l'attenzione alla filiera della trasformazione del prodotto. Quindi ponendo maggiore attenzione al prodotto stesso e a quelle che possono essere le caratteristiche ottimali che ne derivano, abbiamo anche deciso di investire non solo in tecnologie tipo la catenaria, che è un importante strumento che abbiamo ritenuto importante, soprattutto anche per il welfare aziendale, perché consente un alleggerimento di quello che è il peso di lavoro ai nostri dipendenti, ma l'investimento più importante, che siamo in fase di completamento, è la costruzione del nuovo magazzino. Questo nuovo magazzino avrà una capienza di circa 36-37 mila forme e, come anticipavo prima, avremo l'onore di poter inaugurare in primavera assieme appunto all'importante anniversario di compleanno del nostro caseificio. Noi siamo certificati da diversi anni in diverse liste nei paesi export, FDI per quanto riguarda l'esportazione verso gli Stati Uniti d'America, e poi siamo iscritti alle liste Brasile, Cile, Panama, Corea del Sud, Cina e Argentina. Nel 2021 abbiamo intrapreso la certificazione ALAL, quindi per quanto riguarda insomma l'esportazione verso i paesi islamici. L'anno scorso abbiamo esteso il certificato anche all'ente VHA per poter esportare anche verso Indonesia e Malesia. Nel 2022 invece ci siamo certificati BRC, IFS, ISO 22000 e ISO 22005. Queste certificazioni, questi standard, più che altro servono e vengono utilizzati per il discorso della qualità e della sicurezza alimentare. Molto probabilmente intraprenderemo anche la certificazione ambientale ISO 14001 nei prossimi mesi.